Io sono Francesca Finotti, una dei tre fondatori di Brace Brace, o Brace Brace, e leggendo il concept di Supercondominio 3 ho subito pensato al fatto che non solo Leopardi ma anche altri poeti si sono riferiti a delle piante nelle loro opere, come ad esempio appunto a Pascoli alle Tamerici d'Annunzio al Gelso e se vogliamo andare ancora più indietro Mosè che parla con il cespuglio e questi poeti si riferivano nelle loro opere a questi esseri vegetali, non solo come figure poetiche ma come vere e proprie interlocutrici, quindi essere in grado di ascoltare, di pensare e magari di rispondere anche ai loro dilemmi esistenziali. E questo mi sembra una sorta di intuizione brillante che ci porta direttamente al pensiero di Timothy Morton, cioè del tutto legato al tutto, della rete, the mesh in cui ogni singolo essere o oggetto è inevitabilmente incastrato e si influenza a vicenda. E quindi mi sono chiesta se io avessi la possibilità di parlare con una qualche pianta, con quale parlerei e ho pensato che sarebbe questa. La conoscete un po' tutti, sicuramente l'avrete vista, perché si trova praticamente ovunque, nelle stazioni, sul muro di casa, in città, in campagna, ovunque. È la parietaria, che è una pianta infestante come l'ortica, incredibilmente resistente e presente appunto in tutti gli ambienti del mondo praticamente. Anche se silenziosa e non vista, influenza le nostre vite e mettendo nell'aria le sue spore, motivo di allergia tra l'altro per alcuni. E per questo si avvicina molto a quello che Timothy Morton definisce un iperoggetto. Quindi potremmo immaginare quest'erba come un appendice, come l'appendice più esterno di un essere che cresce e ramifica sotto il suolo da noi calpestato e percepito, espandendosi in tutto l'ambiente e svelandosi nella forma di modesti steli con foglie appiccicose. Ecco, vorrei parlare un po' con questa pianta e chiederle appunto un po' di questa saggezza, di questa capacità di adattarsi a tutti gli ambienti, a tutte le situazioni. In questi ultimi anni, aiutati da letture illuminanti e anche spenti un po' da un rifiuto nei confronti del pensiero antropocentrico, mainstream, abbiamo portato la nostra attenzione al mondo dei funghi e dei batteri che ormai vediamo praticamente non in mostri, non in biennale, si parla di funghi e di batteri in continuazione, no? E quindi questo mondo che in realtà è sempre stato lì, semplicemente non ce ne siamo molto accorti e che ci sopravvivrà, lo abbiamo usato come figura teorica ed esempio pratico di alternative possibili, di alterità con cui coesistiamo senza porvi attenzione prima di due anni fa, non lo so, di Don Harway. Quindi in quest'ottica, uno degli ultimi progetti di Brace Brace, il primo dopo appunto questa seconda ondata è questa mostra che vi faccio vedere al volo, scusate, non so usare questo computer. Neanche noi, tranquilla. Ok, grazie. Eccolo qua, vediamo se riesco a far scorrere un minimo. Voilà. Allora, questo progetto, non si vede? Dalla regia, help, help, è colpa nostra, cosa abbiamo schiacciato? Non credo. No, Giona. No, Giona, resisti ancora un secondo. Resisti, ti restituisco la mamma. Vabbè, comunque questa mostra la cito appunto in quest'ottica, perché l'artista Ginevra Dolce Mare ha voluto interloquire con un mondo che forse è ancora più estraneo al popolo dell'arte, dei funghi, dei batteri, cioè la gente del quartiere, in poche parole. Ha dedicato infatti come un ode a una qualche figura poetica una serie di appuntamenti performativi a persone conosciute per caso nel quartiere, come Rosetta, la signora delle pulizie del palazzo di fronte o il Mimmo, che magari qualcuno di voi conoscerà pure, il proprietario del bar vicino a Brace Brace. Durante questi appuntamenti una voce narrante raccontava di queste figure estranei, neppure così vicine, e il corpo di una performer giaceva immobile sera dopo sera in un ciclo di coreografie inoperose. Assistere all'evento ascoltando storie fittizie di queste persone e guardare i diretti interessati, quindi emozionarsi che sono venuti miracolosamente, emozionarsi per tutto il tempo davanti a questo corpo che parla di loro, è stata un'esperienza molto forte. Ecco qua alcune immagini. non c'è documentazione di questi momenti, sono attimi che sono passati, anche su richiesta dell'artista, intricati nella rete spazio-temporale che ci coinvolge tutti, popolo dell'arte, popolo del quartiere, batteri, funghi, tutti. Questo reticolo che tutto coinvolge, assorbe, non solo ci colloca in uno spazio, ma anche in un'unica temporalità. Quindi alcuni artisti, tra l'altro, hanno avuto già questa intuizione, non lo so, pensiamo a Parreno, Pierre Wig, Dominique González-Foster, che nelle loro mostre, mostre che sono diventate opere d'arte, hanno citato tanti altri artisti, hanno citato altre mostre, quindi era tutto un continuum in pratica, no? E anche in quest'ottica potremmo definirla, non lo so, Hyper Exhibition, no? Nell'ottica dell'iperoggetto. E la prima mostra che abbiamo fatto a Brace Brace è stata la mia personale, Burning Burning, che è una città da Elliot, The Wasteland, che, se riuscirò a trovare, odio questo computer, scusate. Eccola qua. Scusate. Ecco, era una mostra volta proprio a creare uno spazio estremamente immersivo, sensoriale, in cui ho unto queste vetrate che erano distribuite intorno allo spazio con questa materia viscosa che è l'olio di cocco e che quindi distribuiva questo odore in tutto lo spazio. Quindi volevo proprio giocare sul rompere l'approccio retinico che di solito abbiamo con l'opera. Ma quello che volevo dire è che all'interno di questa mostra c'era questa fotografia che è all'interno anche dell'ultima mostra che abbiamo appena fatto, la personale di Cecilia Mentasti, l'altra fondatrice dello spazio, che ha voluto fare un'operazione di questo tipo, ossia inglobare le opere di altri artisti. Ecco qui vediamo alcune opere, la mia, un'opera di Jacopo Rinaldi e di Ginevra Dolce Mare. Quindi lei costruisce praticamente delle casse come le casse di trasporto per le opere di altri artisti. In questo caso quindi il termine inglobare, incassare, ha un'accezione positiva, una sorta di gesto d'amore alla fine, di protezione. Però se ci pensiamo a questa parola appunto, inglobare, assorbire, ha anche un'accezione molto negativa, soprattutto nel giargo comune, non lo so, pensiamo, gli alberi assorbono CO2 multinazionali, inglobano altre multinazionali, animali muoiono immersi in un'isola di plastica. Quindi tutte queste parole hanno a che fare con questa sorta di melma, no? Di situazione immersiva, però con questa accezione un po' inquietante, no? E quindi mi è venuto in mente, forse qualcuno di voi ha presente, il libro, quello di Philip Dick, che ha ispirato Blade Runner, ma gli androidi sognano pecore elettriche, in questo scenario post-apocalittico per eccellenza, dove l'orizzonte è costituito da residui di vecchie tecnologie e sporcizie, esiste questa sorta di palta. Cito velocemente, «Nessuno può battere la palta», disse, tranne che per un po' di tempo e forse in un posto solo, come nel mio appartamento, per esempio, dove ho creato una specie di equilibrio tra la pressione della palta e della non palta, finché dura, ma poi morirò, o me ne andrò, e allora la palta riprenderà il sopravvento. È un principio universale, valido in tutto l'universo. L'intero universo è diretto verso uno stato finale di paltizzazione totale e assoluta». Ecco, e continuando a immaginare questa sorta di palta, pensiamo sempre nell'universo fantascientifico anche la trilogia dell'area X di Van der Meer, dove questa melma dei riflessi fluo molto figa piano piano si espande, trasforma ogni essere vivente al suo interno proprio in profondità, dandogli una nuova forma. Ecco, parlo di questa roba perché secondo me è proprio uscita dall'archetipo del viscoso legato alla fantascienza, ormai ci appartiene, è presente, ha un odore proprio, la sentiamo un po' sulla nostra pelle, soprattutto quando camminiamo in città, questa sensazione. e questa sorta, e questa cosa ha a che fare secondo me con l'impensabile, quindi con un futuro che appare spaventoso, però a tratti forse anche eccitante, in cui ci sono appunto i cambiamenti climatici che sono entrati nell'orizzonte collettivo, come un'incognita in grado di influenzare la nostra esistenza, e quindi un po' tutto sta cambiando, in poche parole, repentinamente, la luce sta cambiando, ogni tanto capita a tutti, immagino, insomma di, non lo so, andare in camera propria o nella sala oppure di uscire, vedere una luce è un po' strana, una cosa che non si era mai vista prima, una cosa che può parire sia bellissima che inquietante e riflette su ogni cosa. E questo riflesso spesso ci porta a provare sensazioni di familiarità nei confronti dello sconosciuto, come guardare ad esempio vecchie fotografie, quelle che hanno un po' tutti i nonni, che ritraggono familiari lontani, in cui ti riconosci forse in qualche tratto. In quest'ottica sempre vorrei citare una mostra che abbiamo fatto di Jacopo Rinaldi a ottobre dell'anno scorso. Certo, certo, sì sì, ho finito. Eccola qua. Dove appunto questa giornata che sta bevendo il latte. Allora, queste fotografie sono stampate su questa pellicola specchiante che ritraggono appunto delle foto di questo anarchico Gaetano Bresci, l'anarchico quello che uccise Umberto I e sono esposte appunto su questa superficie. Il gioco di luci, di riflessi che si viene a creare ci porta in una sensazione un po' altalenante tra il familiare, il riconoscibile, l'oscuro, un po' come quei sogni che ci fanno svegliare di soprassalto ma poi di cui non hai nessun ricordo e ti rimane soltanto questa sensazione addosso. Ecco, questo per dire che questi continui cambiamenti repentini eccetera possono essere sempre visti in negativo, in positivo, non lo so. Il punto è che ad esempio noi abbiamo praticamente perso lo spazio da pochissimo perché, non so, chi è di Milano lo sa, la zona Nolo di Milano è soggetto a una gentrificazione molto potente in questo momento per cui lo spazio è tipo stato venduto nel giro di tre secondi e quindi ci ritroviamo improvvisamente anche senza un luogo fisso in questo momento che spero vivremo anche in modo positivo in qualche modo, in modo di poterci rinnovare e cambiare dato che lo spazio è stata una tematica che avete toccato un po' in tanti, sia in senso che è molto importante sia in realtà in modo molto fluido, molto aperto quindi magari ne parliamo dopo. Ho finito. Grazie. Grazie mille.